La prima missione del cosiddetto giro del fridge vi viene assegnata da scooter. Acceleriamo un po', eccoci qui nel garage, e la missione è una fredda spalla. C'è in mezzo una vecchia fiamma di scooter, Tal Lani, che se n'è proprio scappata ed è andata a vivere in mezzo ai ratti da Cannibale, dove? Appunto nel fridge. Per riconquistarla, scooter ci sta dicendo che ha bisogno di fiori particolari, 5 mazzetti, e intanto che ci siamo, dovessimo trovare delle riviste con donnine, pure quelle. Via, al fridge. I fiori si trovano in fondo a livello dove c'è l'area con i cristalli, però se volete completare l'obiettivo secondario, indicato in azzurrino, cioè trovare le riviste con le donnine, si trovano qua, in mezzo ai rottami di auto, camioncini, eccetera. E troverete un nutrito gruppo di ratti odiosissimi che tenteranno di rendervi le cose difficili. Quindi, tra una granata e una raffica di mitraglia, tenete d'occhio la minimappa, perché vi porterà molto facilmente vicinissime all'area, al camioncino, all'auto, quello che è, in cui trovare appunto queste benedette riviste. Derattizzata l'area, vado alla ricerca della prima rivista, eccola lì che si è intravista, qui, sulla cassa. E una. La seconda è lì, veramente a pochi metri. Eccola. E due. Anche la terza è vicinissima, in quel furgoncino. Voilà. E con questa fanno, appunto, tre. Possiamo dedicarci ai fiori. Dritti, come dicevo, fino all'area con i simpatici crystalisk. Come al solito, occhio alla minimappa. Sono su qualche roccia o vicino a quei cactus che si intravedono. Già là, dritto davanti a me, ce n'è uno. Ovvio che poi arriva qualche rompiscatole. La Aerold, non a caso, è chiamata anche l'ammazza crystalisk. Perché, grazie al gran numero di proiettili che esplode, si riesce a massacrare veramente con un paio di colpi di grilletto uno di questi potenti nemici, che una volta temevo. Sono quasi più rognosi i rompiscatole, i Rek. Dunque, prendete come riferimento qua il camioncino con la scatola pizza nel centro dello spiazzo, e qua c'è il primo. Basta poi girarsi, e troverete il secondo. E appena poco o più là, anche un terzo. Sono comunque tutti lì, eh, vicini. Basta guardare la minimappa. Quasi ad ogni cactus, con questo colore qua, bluastro, ce n'è uno. Ecco qua, siamo già a quattro. Giratevi un attimo, e sotto le rocce, alle vostre spalle, troverete anche l'ultimo. Solito cactus, solito fiore. Eccolo lì. Beh, ma per un incontro con una bella donzella, non bastano i fiori. Bisogna poi, ovviamente, ammorbidirla anche con del cibo. Cibo per eccellenza, la pizza. Altra ricerca, qualche salto qua e là. Primo pezzo di pizza, poi si gira intorno, si s'arrampica. Beh, qui ce n'è un altro, e qui un altro ancora. Fin troppo facile. Lassù, basta arrampicarsi un attimo. E non è per niente complicato. L'ultimo pezzo di pizza, un pochino potrebbe farci dannare. È lassù. E non so se c'è modo di raggiungerla partendo dal basso. Io mi sono buttato da ancora più su, da là. Ritorniamo l'ora velocemente sui nostri passi. Eccoci qui, in punta. Andiamo a curiosare. Eccola laggiù. Occhio che non è così facile come potrebbe sembrare. Andate con i piedi, leggeri, leggeri, leggeri. Spostatevi di un niente e poi lasciatevi cadere. Altrimenti è facilissimo ripiombare sul ghiaccio. Io, in realtà, ho provato due o tre volte, sono sincero. Ottimo. Adesso abbiamo tutto quello che serve per tentare di riconquistare l'anei. Torniamo verso l'ingresso, che starebbe alla sinistra di questo complesso. Dove invece troveremo la bella, tranquilla, dolce l'anei. Mica tanto. Lì, sul copertone, piazzate l'esca. Uno, fiori e pizza. Inizialmente l'anei sembra quasi convinta, ma poi ci ripensa ed esce per darceli di santa ragione. Non è un avversario facilissimo, perché si muove rapidamente e fa parecchio danno. E occhio, perché appena dopo salteranno fuori un'intera tribù di nani piccoli, ma picchiatori come pochi. Naturalmente, se preferite, potete anche battervela a gambe elevate e comunque poi tornate a X-Entry da Scooter a fare la consegna. Beccatevi la ricompensa, questo costume. E adesso può cominciare il farming dell'arma leggendaria che vi rilascerà la signorina l'anei. Quindi, uscite salvando e rientrate. L'anei droppa una pistoletta corrosiva, notevole, la Goob o Gab. E non mi sembra una mia esperienza di farming difficile da ottenere. Tant'è che ne ho prese ben tre, mentre non sono riuscito a ottenere le altre due leggendari del livello, che però ho per altre vie. Per ottimizzare i tempi del farming, conviene non attaccar briga. Qualche volta sarà impossibile. E, se ce l'avete, indussate lo scudo Descham, perché assorbe i proiettili. Soprattutto se ce l'avete nella versione più potente, che ne assorbe ben il 94%. Così potrete correre come libellule, fregandomene degli avversari. Mi avete visto lanciare subito una bella granata scoria, perché l'anei va ammorbidita. E prima o poi, vi omaggerà con questo regalino. Dai, siccome non capita spesso, vi mostro anche il drop di un'altra Gab. Qui c'è una scaletta. Prendetela e evitate il giro lungo con le scale. Granata scoria. E riecco la nostra Lani. In realtà qui io puntavo a ottenere le altre leggendarie, come vi stavo raccontando pochi secondi fa. Però, insomma, intanto che ci sono, perché non riprovarci? Wow. Un'occhiata alla scheda. Ho scelto questa, tra le tre. Tenete conto che siamo a livello 61, quindi sembra poco per chi è già a livello potenziato 8, però corrosiva, ha una buona precisione. Questa è anche un bel caricatore, guardate che bestione doppio, 125 è tanto. Veloce nella ricarica, cadenza notevole. Zoom. Secondo me, questa signorina contro i robot, no, se la deve cavare, davvero niente male. Quindi, che dite? Andiamo a provarcela nel Gulag. Il Gulag è quel campo di prigionia dove abbiamo liberato Roland e che si trova nel Dust. Poi, un luogo vale l'altro. Questo, comunque, è bello pieno di robottoni Iperio. Vediamo chi ci capita a tiro per primo. Oh, bello zoom, almeno questa versione. Ok. Classico ingegnere. E beh, insomma, il B e la rapidità di fuoco e il danno corrosivo fanno il loro mestiere. Vediamo come se la cava con i controllori. Eh, direi, più che bene. Rompiscatola in arrivo a ore due. Oh, robot, finalmente. Uh, eh, eh. Direi che li sta macellando. Mi piace, che devo dirvi. Sì, sì, sì. Se li mangia. Ancora controllore, ma senza abilità d'azione. Storia breve. Ecco qua un altro bel caricatore che se ne va. Quattro e quattro otto. Questa versione ha un bel mirino. Adesso proviamo a vedere come se la cava dalla distanza. Un po' più difficile, ma ce la si fa. Non possiamo aspettarci prestazioni da fucile da cecchino, ma guardate. Per una pistola è notevole. Sono lontanissimo, eh. E adesso un po' di mischia. Troppo vicino. Ok, adesso si ragiona. Quanti puntini rossi? Sotto chi tocca? Oh, questo sì che mi piace. Bel bestione. Uh, duro definitivo. Eh, vediamo adesso senza B. Beh, c'è sempre un ozzo che aiuta. Se la cava, direi, greggiamente. Era un tipo tosto, eh, quello che ho fatto fuori. Beh, visto che ne ho trovate tre, usiamone almeno due. Voilà! Il B non è attivo. Ma sto comunque maciullando questi robot. Guardate che roba. Senza scudo. Stanno arrivando ancora un bel po'. Ok. Controllore è durato un secondo. Beh, poi. Invulnerabili non siamo. Però, con una doppia gub è anche abbastanza facile, senza dover ricorrere al classico North Fleet o comunque Lanciarazzi, uscire da lotta per la vita. E tu, conciocomere, mi hai mandato in lotta per la vita. Conti che sta per scattare ancora l'abilità d'azione. Altro giro. Ah, quando poi il B è in funzione. È addirittura spettacolare. Dai, ultimo giro che mi sto divertendo. Ora dovrebbero comparire un po' di cattivoni. Oh, sì. Oh, oh. Davvero cattivoni. Anche il controllore. Ma con o senza controllore, il potere corrosivo di questa arma è veramente notevole. Beh, oh, quattro contro uno. Wow, quattro contro due. Che dite? Vi ho convinto? Per me vale la pena il tempo del suo farmi. E come? Mi ricordo un po' The Hornet. Siamo lì, ma questa ha anche un fascino superiore. Mi piace tanto il rumore che fa e vedere quei due megacaricatori da un po' un'idea di so forte. Chiudo qui questo video introduttivo del giro del Fridge e ci si risente e ci si rivede al prossimo farming. Grazie a tutti.